Contrariamente a quello che si dice, il Rosario non è una devozione mariana, ma è profondamente cristologica, incentrata su Cristo e sui misteri di Cristo. L'annunzio che porta l'angelo a Maria è proprio l'annunzio della venuta del verbo che si fa uomo. Si può essere cristiani, ma si può essere cattolici solo se c'è una vera devozione alla Madonna, alla Gran Madre di Dio. All'interno della chiesa cattolica l'ordine religioso dei certosini, che ha un motto bellissimo che è stat crux dum volvitur orbis, cioè il mondo gira ma la croce resta ferma, hanno un modo diverso di dire il Rosario che è molto bello e che vorrei divulgare e fare conoscere. La prima parte si dice la prima parte dell'Ave Maria che è quella alla salutazione angelica e poi si medita per 50 volte su un mistero particolare della vita di Gesù. Si può fare un mistero al giorno, si possono fare tutti, si può scegliere quello che è più vicino alla propria indole. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù Cristo che all'annuncio dell'angelo è concepito di Spirito Santo. Amen. Grazie. Grazie. Grazie.